sono qui in compagnia di valentina sarmiento è appena finita partita la prima casalinga della lazio contro la città del tricolore risultato finale 5 2 per noi una buona gara che ne pensi allora penso che abbiamo fatto una partita molto ordinate ci manca ancora alcune cose da migliorare però le abbiamo giocato bene anche tu hai contribuito col tuo grande col ecco raccontaci un po di rovescio complimenti per il gol in cosa pensi che la lazio può ancora migliorare le marcature e comunicazione e ancora niente siamo una scuola comunque molto giovani quindi ci manca ora con luca ecco l'ultima domanda proprio su luca che cosa ti sembra di questo nuovo allenatore mi piace tantissimo e penso che abbiamo fatto da così da così da così in questa partita l'abbiamo dimostrato un po di più però ancora grazie a valentina ciao a tutti